Ti sei mai sentito sopraffatto da tutto quello che devi fare e a fine giornata, nonostante tu abbia corso ai 100 all'ora, ti rendi conto di non aver fatto nulla di veramente importante? Sappi che questa è una condizione abbastanza comune e, nonostante tutti sappiamo che il tempo sia la risorsa più preziosa che abbiamo, molti di noi non riescono a gestirla, o meglio, utilizzarla al meglio. Ma perché è così importante gestire il tempo in maniera efficace? Perché siccome tutti abbiamo di fatto 24 ore, sembra banale dirlo, la vera differenza tra i risultati che possiamo ottenere nella vita rispetto ad altre persone riguarda come usiamo questo tempo che abbiamo. E la capacità di gestirlo al meglio può farci sentire realizzati oppure può farci sentire sempre indietro rispetto ai nostri obiettivi. Infatti una cattiva gestione del tempo porta sia a stress che ad ansia data dalla mancanza dei risultati che vorremmo ottenere. Una buona gestione, invece, permette di focalizzarci su ciò che conta davvero, eliminando distrazioni, ma soprattutto massimizzando i nostri sforzi. Uno dei principi più famosi, più conosciuti, è la famosa legge di Pareto, la legge 80-20, che sostiene che il 20% degli sforzi che facciamo porta l'80% dei risultati. Quindi tendenzialmente noi potremmo concentrarci solo sul 20% delle attività che facciamo per ottenere tutto ciò che abbiamo e ignorare tutto il resto. Perché ci sono attività che non hanno un impatto significativo nei nostri risultati, ma a cui noi ogni giorno dedichiamo tanto tempo. Per cui è importante identificare quelle poche azioni, quel 20% delle azioni che portano il grosso dei nostri risultati. Infatti uno dei punti di partenza per capire come stiamo gestendo le nostre giornate consiste in nient'altro che creare un elenco di tutte le attività, tutte le cose che facciamo durante il giorno e dargli un voto di priorità, cioè quanto è importante ognuna di queste attività. Ci renderemo conto che usiamo un sacco di tempo per attività che magari sono urgenti, dobbiamo anche farle perché magari sono impegni di lavoro eccetera, ma se guardate in un'ottica un pochino più ampia, cioè sul raggiungimento dei risultati che vogliamo ottenere nel medio e lungo periodo, ci rendiamo conto che quelle attività ci portano a una crescita, comunque un avanzamento pari a zero o quasi. Quindi oggi voglio invitarti a fare proprio questo e iniziare a ragionare per attività e per priorità. Poi ci sono un miliardo di modi per gestire il tempo dalla tecnica del pomodoro, la tecnica del time blocking, sono veramente tantissime ognuna quelle con cui si trova meglio, ma il punto chiave è avere la consapevolezza di non gestire il tempo nel migliore dei modi. Questo ovviamente non vale per tutti, ma ti assicuro che 99 persone su 100 lo gestiscono male e mi considero tra quelli perché potrei sicuramente migliorare anche sotto questo aspetto. In ogni caso, inizia a creare la lista di tutte le attività che fai durante la giornata o durante la settimana, appuntati anche il numero di ore che utilizzi per ognuna di queste attività e dagli un valore a livello di priorità, nel senso, questa attività quanto mi aiuta a raggiungere gli obiettivi che ho in mente? Ovviamente per farlo dobbiamo sapere quell'obiettivo che abbiamo in mente. Altro tema che non voglio aprire oggi ma che è fondamentale. In ogni caso, una volta fatto questo, ti renderei conto che stai utilizzando un sacco di tempo per cose pressoché inutili. Cerchi in qualche modo di eliminarle o di delegarle perché se ti concentri sulle cose che ti porteranno risultati, la conseguenza sarà che i risultati arriveranno. Sembra banale, eppure nessuno lo fa. Con queste tutte, io sono Massimo Martinini e ci sentiamo domani. Ciao! Aggiungo, come fare per iniziare velocemente? Inizia facendo l'elenco delle attività, sfruttando un po' la regola dell'80-20. Quindi trova le attività che sono realmente importanti. Poi, utilizza il time blocking, cioè il blocco di tempo, nel senso, hai un'attività importante, blocchi dalle 9 alle 11 di mattina, non sarò disturbato, spengo le mail, spengo i social, stacco il telefono e lavorerò per due ore concentrato su quello. Questo ovviamente significa non fare multitasking perché è un killer letteralmente della nostra produttività. E, di tanto in tanto, è importante prendersi delle pause. Anche qui è molto soggettivo, c'è chi suggerisce, come dicevo, la tecnica del pomodore, dicendo però, fare delle pause quando senti di non essere più al 100% è importante per riprendere la carica. Con questo è tutto davvero e ti saluto. Ciao!